Tra qualche ora si aprirà un altro anno della nostra vita. Molti faranno il countdown per poi festeggiare con lo spumante e concludere, augurandosi gli uni e gli altri che l'anno nuovo sia migliore di quello passato. Buon anno sarà la frase più ricorrente dopo la mezzanotte di oggi. Sarà un anno benedetto, sereno, felice come ci stiamo augurando? Chi di noi può dire in anticipo se le cose andranno bene oppure male? Tutti credenti o non credenti dobbiamo ammettere che nella vita ci sono e ci saranno sempre giorni tristi e altri invece felici. Lo sapeva bene Salomone che esprimeva in forma poetica e didattica questo concetto. In Ecclesiaste al capitolo 3 nei versi dall'1 al 5 è scritto così. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cortoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettare via pietre e un tempo per accoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Certo che il testo che abbiamo letto ci sembra che metta dentro tutto e il contrario di tutto, un tempo per piangere, un tempo per ridere per esempio. Il testo si apre con la nascita e la morte e il verso 5 sembra attuale più che mai, visto che ci parla di un tempo per abbracciarsi e un altro per astenersi dagli abbracci. Purtroppo è quello che in questi due anni stiamo vivendo a causa del Covid-19. In questi versi si parla di momenti diversi ma collocati apparentemente tutti sullo stesso piano in una serie di antitesi. Ad ogni azione descritta ne corrisponde un'altra contraria, un'azione che non cancella la prima, non la annulla ma la supera, aprendo un nuovo momento qualitativamente diverso dal precedente. L'insegnamento che questo piccolo poema vuole trasmetterci è che nella vita sperimenteremo tutti dei momenti piacevoli e altri che lo saranno meno. Anche il fatto di essere credenti non ci esime dallo sperimentare il dolore e le difficoltà della vita. Essere credente non vuol dire che non ci accadranno mai cose spiacevoli, anzi è matematico che prima o poi ci accadano. Ma il credente sa con certezza che dietro quelle nuvole il sole è sempre presente e splendente, anche quando non lo vediamo. Tuttavia se permettiamo che la nostra felicità dipenda dalle circostanze in cui di volta in volta avremo a trovarci, allora prepariamoci ad un'altra annata come tante altre, perché questa annata sarà fatta di momenti piacevoli e di momenti meno piacevoli, fatte di cose più o meno belle ed altre più o meno brutte. Ricordati che la differenza dipende dal tuo rapporto con Dio. Se spenderemo ogni giorno dell'anno che sta per incominciare insieme a Gesù Cristo nostro Salvatore, saremo comunque appagati e soddisfatti. Stamattina quindi il mio non vuole essere il solito augurio di chi ti dice buon anno nuovo, oppure auguri di un 2022 sereno, oppure nell'ambito nostro evangelico Dio ti faccia prosperare per il nuovo anno e frasi simili. Piuttosto il mio augurio è questo. La presenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo ti accompagni ogni giorno del nuovo anno affinché tu possa sperimentare la sua gioia a prescindere dalle circostanze favorevoli o avverse della vita. Dio ci benedica e buon anno nuovo.